A Sassari sono arrivate ulteriori conferme, un buon pareggio contro una squadra che era riduce da 25 gare senza sconfitte. Sì, abbiamo fatto una buona partita, nonostante un po' magari di stanchezza, perché il viaggio che abbiamo fatto di sabato era un po' fastidioso. Comunque abbiamo rischiato poco e poi magari siamo stati poco cattivi sotto porta perché comunque portavamo a vincere quella partita. Qualche buona occasione, una è capitata anche a te, da fuori magari sembrava più semplice di quanto allora in realtà sul campo. Esatto, ho cercato di fare il pallonetto perché il portiere stava uscendo e l'ho presa male e purtroppo è uscita fuori. Comunque una gara che induce all'ottimismo, ci sono concrete chance di qualificazione, bisogna come sempre sfruttare il San Filippo. Sì, esatto, noi sfruttiamo il fattore campo e speriamo che i tifosi ci diano una mano come ci hanno sempre fatto quest'anno e quindi speriamo di andare avanti in questa polscodetta. L'Ischia giocherà mercoledì, avrà qualche giorno in meno di riposo nelle gambe, può essere un aiuto o a questo punto della stagione conta poco? Sicuramente può essere un aiuto perché comunque con questo caldo è difficile giocare ogni tre giorni, quindi comunque loro arriveranno qui sicuramente per farci la guerra, però noi siamo in Messina e abbiamo l'obbligo di vincere questa partita. Avete festeggiato tanto, era d'obbligo, lo avete fatto per tre volte in pratica dopo le sfide con Cosenza, con la Nissa, anche a Ragusa, eppure molto concentrati in campo, insomma non vi siete fatti distrarre? Ecco, noi siamo bravi a festeggiare fuori dal campo e poi una volta in campo stacchiamo la spina e diamo tutto quello che abbiamo. Comunque speriamo di festeggiare anche alla fine dell'opolo scodetto. La società vi ha detto qualcosa, qualche raccomandazione particolare? Ci tiene comunque a questa manifestazione? Sì, sicuramente, la società è la prima che ci crede insieme ai giocatori, quindi non ci resta altro che regalare questa soddisfazione alla società. Come giudichi la tua stagione? Ormai siamo in un momento in cui i bilanci si possono tracciare, è stato subito un grande approccio con quell'esordio, con quelle due reti? Ritengo possa essere abbastanza soddisfatto. Io penso che in generale può essere una stagione positiva per me, sia per me che per tutta la squadra, perché comunque abbiamo raggiunto l'obiettivo che eravamo prefissati inizio campionato, quindi è una stagione positiva sicuramente. Non è stato semplice perché i giocatori che magari avrebbero la certezza di una maglia da titolare in altre squadre e qui spesso si sono dovuti accontentare di una partenza in panchina? Ma quello è una cosa normale perché siamo in una grande squadra, in una grande società, quindi avere una panchina forte è stato anche un valore aggiunto. Hai già parlato del tuo futuro con il DS Ferrigno, è ancora presto? No, aspettiamo che finisca tutto, poi ne parleremo nel futuro. Che seconda divisione sarà? Tu rispetto ad altri compagni magari la conosci ancora meglio? Sicuramente di squadre blasonate c'è il Messine, forse un'altra squadra, altre due o tre squadre, San Benedettese che è salita, quindi di tifoseria queste due saranno le più forti, poi bisogna vedere sulla carta. Ci sarà peraltro una formula molto particolare, in pratica arrivando nelle prime nove, di fatto è come se si conquistasse un'altra promozione, una grande chance. Esatto, ma noi puntiamo ad arrivare non nelle prime nove, ma almeno nelle prime quattro, cinque, quindi cercatemi di fare benissimo questo campionato. Qual è stata l'arma in più del Messine? Il Cosenza fino alla fine ha resistito, ha chiuso ad appena tre punti, davvero una grande stagione la loro, però voi avete avuto qualcosa in più. Io penso l'organico, perché comunque restava sempre fuori gente come Quintoni, Ococuzzo, Savanarola, che comunque quando entravano facevano bene, quindi penso che l'organico e la qualità di questa squadra è stato il fattore. I tifosi vi sono stati sempre vicini e poi sono aumentati in maniera smisurata nelle ultime due gare? Sì, i tifosi poi è normale, sono stati il nostro dodicesimo uomo, ci hanno creduto fino all'ultimo, poi nelle ultime tre o quattro partite sono venuti in massa e speriamo che continui così anche l'anno prossimo. Sì, i tifosi poi!